Rivoluzione urbanistica nell'area di Porta Barete, che il comune dell'Aquila si appresta a riportare al suo antico splendore, e nell'area di Villa Gioia, a fianco al Tribunale, dove ora c'è anche la sede del Consiglio Comunale. La famigerata palazzina del Civico 207, annunciato infatti oggi l'assessore alla ricostruzione, Pietro Di Stefano, non potendo essere ricostruita davanti alla porta più antica della città, risalente al XIII secolo, area ora vincolata, potrà essere delocalizzata nell'area dove ora ci sono i ruderi delle ex magistrali a Villa Gioia, di proprietà comunale. Con buona pace dei condomini, che ancora fanno resistenze. Il bene pubblico deve prevalere su quello privato, ha sottolineato Di Stefano. Se i condomini sono d'accordo a delocalizzare a Villa Gioia, a meno di 200 metri, è bene, altrimenti la parola, per quanto mi riguarda, passa ai giudici. Ma non solo, non verranno ricostruite buona parte delle parole di Di Stefano, orribili palazzine costruite a ridosso delle mura, insulti alla decenza dell'edilizia anni Sessanta. Visto che i condomini hanno questa volta tutti o quasi accettato di delocalizzare in altre aree o permutare con appartamenti comunali le loro vecchie proprietà. Le cinque palazzine ne resteranno accorpate solo due e molto più a monte dell'area di Porta Barete. In questo modo, gongola di Di Stefano, si potrà recuperare l'intera area con la riapertura dell'antica porta, la creazione di un'area verde archeologica e la rimozione di tutto il terrapieno della parte iniziale di Via Roma, nonché l'abbattimento di un altro orrore architettonico, il ponte di cemento che sovrastra Porta Barete e le mura. A Villa Gioia poi saranno create aree verdi e altri parcheggi, anche qui con una salutare opera di diradamento edilizio. È ambizioso ma aggiungiamo che è anche voluto, è voluto dall'intera città, almeno il recupero dell'area di Porta Barete, quella che viene definita nelle mappe storiche e la porta principale della città e la riorganizzazione del complesso di Villa Gioia dove una centralità di carattere amministrativo giudiziario già si è realizzata. Si tratta di una riorganizzazione urbanistica di un bel pezzo di città, sia nella parte storica, sia nella parte direzionale e qualche soluzione importante per gli abitanti che abitavano a ridosso di Porta Barete. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono in parte quelle che avevamo già detto, cioè l'indennizzo diretto per l'abitazione principale, la permuta dell'abitazione diversa dalla principale con i mobili del comune in più un'area dove poter ricostruire per coloro che vogliono invece ricostruire la casa.